Il nuovo parco Pesaro Avventura di Villa San Martino sta cercando i suoi animatori. A lanciare l'appello sono lo stesso comune e l'azienda costruttrice Top Adventure Park che sta raccogliendo le candidature per selezionare i 4-5 animatori che dovranno guidare e coinvolgere i visitatori all'interno della struttura. Un impianto inclusivo e 100% green che vedrà il taglio del nastro ad aprile in un luogo, quello a fianco di Via Togliatti, in cui potersi divertire e fare attività sportiva a stretto contatto con la natura. Percorsi e avventura, snack bar e un'area dedicata a feste e compleanni. Un ruolo importante lo avranno anche gli animatori che per poter essere selezionati dovranno prima fare un corso formativo e poi superare un esame conclusivo. Siamo al lavoro per offrire a Pesaro un nuovo e interessante parco avventura. A breve si inaugura ma stiamo aspettando anche le candidature di tanti pesaresi che avranno la possibilità di venire a lavorare qua. Sarà una bella opportunità di gioco, divertimento ma anche di sport all'interno di quello che è un contesto che si sta ampliando dal punto di vista sportivo. Per poter entrare a far parte del team è necessario essere dinamici, avere tra i 16 e i 50 anni e avere preferibilmente il domicilio entro 15 km da Pesaro. Aspettiamo le candidature per partecipare a far parte della squadra di Pesaro Avventura. Vi aspettiamo numerosi qua e soprattutto i pesaresi. Aspettiamo! 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 Aspettiamo!